ragazzi allora stiamo tornando a soriano a casa e mio nonno saluta stiamo tornando a casa dove suono il pianoforte e registro video però diciamo che vado un po mettino più piano a registrare video perché se no zompa la connessione mi zompa anche la 34 quindi siamo a roma termini e tra un po saremo arrivati partiamo alle 9 come nel tabellone lì che va a firenze però noi ci fermiamo però noi ci fermiamo a orte in pratica siamo da soli perché siamo in stati mezz'ora fa in pratica mezz'ora fa abbiamo la barossa ma non devi descrivere descrivo io sto io su youtube e riprenderò quando stiamo in viaggio e quando siamo arrivati a casa cioè siamo arrivati alla stazione quindi raga dopo grazie a tutti